Ciao e grazie, campionato sospeso oggi per questo virus che non voglio condannare nessuno però mi sembra che sia stato un po' sottovalutato da parte di chi doveva decidere analizziamo le partite che ci sono state, il mio video lo trovate sempre sul canale YouTube Massimo Primi e la pagina è Facebook e il calcio secondo mister Primi Spal Juventus direi vittoria strameritata della Juve come dissi all'andata anche ieri ho avuto la sensazione che giocassero due squadre di due categorie diverse, la Juventus ha vinto senza neanche soffrire senza neanche dannarsi più di tanto contro una Spal volenterosa tra l'altro una Spal in cui vi devo far vedere una cosa, mi è arrivato dai parenti di Ferrara mi è arrivato il cappellino della Spal, da una Spal che è sì volenterosa ma c'è proprio poco proprio proprio poco nella Spal, mentre la Juve ha giocato la sua partita a destra con un superlativo quadrato secondo me e un straordinario decenzionale Paolo Di Bala che ieri, ecco la cosa che un po' mi ha infastidito è il fatto che Di Bala non abbia trovato il gol perché ieri è stata una partita dal punto di vista quantitativo e qualitativo veramente perfetta da parte del fantasista della Juventus che ha una qualità che io vi dico sempre che non so se tutti notano, a parte le giocate che ha in attacco è il giocatore della Juventus che ripulisce più palle sporche c'è una palla sporca, la dà Di Bala, lui riesce a proteggerla, a prendere sempre fallo quelle sono cose importanti, sono cose importanti nel gioco del calcio direi che Paolo Di Bala, traversa di Cristiano Ronaldo, gol annullato a Cristiano Ronaldo insomma la Juve ha preso gol poi per un episodio sono quelle classiche azioni dove tu vai e questo ti anticipa per un centesimo calcio di rigore giusto a favore della Spal che però ha suscitato polemiche perché? perché il VAR non funzionava allora non c'è nessuna polemica, può capitare, stai sendo uno strumento elettronico e giustamente dal regolamento l'arbitro ha usato le radioline, il walkie talkie per parlare con il VAR come dice il regolamento, come dice il protocollo VAR e ha giustamente dato il calcio di rigore quindi tutto nella norma, non c'è niente di straordinario non perché c'è sempre di mezzo la Juve che il VAR non va, il VAR va è così, la regola è così, sappiato se dovesse capitare un'altra volta è così se il VAR non funziona può intervenire può intervenire direttamente l'omino in cabina e detto questo sono concordo pienamente con Sarri nel dire che se fosse successo tutto a parti inverse sarebbe stato una tragedia una tragedia colossale quindi bisogna sempre avere onestà e obiettività quando si commenta il gioco del calcio se fosse capitato il rigore per la Juventus con il VAR spento anche lì non c'è da fare nessuna polemica perché la Juventus di quella di là come al solito ma decideva l'uomo in cabina detto questo passiamo a Milan-Fiorentina a Fiorentina-Mila meglio che è stata secondo me per i primi 30-35 minuti io penso una delle quattro partite più brutte che abbiamo visto quest'anno in Serie A perché è stata una partita senza ritmo non c'era fluidità di gioco ma ha tanti errori e soprattutto tanti tanti falli gioco sempre troppo spezzettato fino a la partita si è accesa quando? quando è arrivato l'episodio di Ibrahimovic allora adesso ve lo spiego bene perché io l'ho scritto un post e anche quello è sempre stato frainteso ma non c'era niente da fraintendere era scritto correttamente in italiano e spiegava benissimo il mio pensiero che non è difficile c'è una regola allora io sono d'accordo che dal punto di vista del gioco dinamico del gioco del calcio il fallo di mano di Ibra su un intervento maldestro di Dalbert e su questo voglio aprire una parentesi perché secondo me Dalbert voi vi ricordate quando negli anni 70-80 arrivò un giocatore brasiliano che si presentò fortissimo alla Pistoiese e in verità faceva il benzinaio ecco io Dalbert non sono convinto che sia un giocatore di calcio perché ogni tanto fa di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra però questo è un mio parere chiudo la parentesi il fallo di mano di Ibra come è il regolamento che è sbagliato il regolamento è sbagliato perché tu non puoi punire un fallo ci sono falli di mano e falli di mano loro per semplificarsi un po' fare un po' come Ponzio Pilato lavarsi le mani hanno detto ogni volta che qualcuno in attacco tocca la palla di mano è fallo quindi è la regola che è sbagliata poi ieri Calvarese l'ha applicata giusta perché quando Vibra io pensavo l'avesse presa con la pancia invece la tocca col braccio e allora lì non c'è niente immediatezza non immediatezza volontarietà volontarietà braccio viene annullato il gol è un caso come quello di Geno Sassuolo il gol clamoroso anche lì annullato a Diuricic per un fallo di mano che Diuricic manco se ne è accorto davanti al portiere hanno fatto questa regola secondo me va cambiata però adesso c'è quindi il gol di Ibra giustamente va annullato altro episodio è il vantaggio del Milan che come dissi nell'occasione del rigore di Cristiano Ronaldo fallo di Aleksandro su Ibraimovic quindi Civivar doveva intervenire non dare il rigore e concedere la calcio di punizione al Milan ieri il gol del Milan è viziato da un nettissimo fallo di Conti che salta in testa Castroviglia proprio a metà campo davanti al quarto uomo da lì parte l'azione cross in mezzo grande intervento di Caceres che Di Petto vuol passare la palla Di Petto ci sono 20 giocatori in aria lui Di Petto la vuole passare a Pezzella la palla rimane lì arriva il fortunato Rebic perché Rebic veramente in questo momento ha una fortuna che è veramente da portare subito a campione e farlo giocare a punto e banco tutto il giorno calcio in porta male palla ancora in mezzo alle gambe dell'avversario e gol però però c'è un però c'è un fallo prima di Conti e come i tifosi milanisti si indignarono giustamente per il non fischio di Aleksandro su Ibrahimo ieri però dovrebbero indegnarsi anche per rifarlo il non fischio di Conti su Castrovilli vabbè comunque il gol è stato secondo me erroneamente convalidato passiamo avanti c'è l'espulsione di Ibra che secondo me è più rosso che giallo ci può stare non ho nulla da dire su quello e poi arriviamo al calcio di rigore che è clamoroso è vero che il Milan ha smesso di giocare e questa cosa è inconcepibile probabilmente perché il Milan ha pochi giocatori di personalità capace di prendersi l'unico Ibrahimović ma negli ultimi 20 minuti Ibra secondo me ancora non è in condizione infatti io riparli toccati da Ibra negli ultimi 20 minuti quasi zero pochissime Milan ha smesso di giocare è salita la Fiorentina due o tre contropiedi pericolosi e poi il calcio di rigore che comunque insomma io non riesco a capire come mai prima cosa Calvarese non va dal VAR e non va al VAR perché il VAR non gli dice niente secondo me perché non è che Calvarese prende e vada solo al VAR c'è il VAR che gli dice guarda che per rigore ma non si può fare un errore del genere ma io live ho subito detto ma va Romagnoli ma puoi fare un intervento del genere ma te sei un criminale poi vedo il replay vedo che la palla leggermente si sposta e allora gli dico adesso il VAR chiamerà dirà che Romagnoli ha preso il pallone e questa cosa non è successa e il Milan ha perso ha perso tre punti per come si era messa la partita diciamo che anche il gol del Milan andava annullato quindi sarebbe stato uno 0-0 ipotetico però in quel momento il Milan è in vantaggio non puoi dare cioè non puoi non andare al VAR il VAR deve chiamare non si possono fare degli errori sono errori sono punti pesanti questi e non si può sbagliare ecco perché io vi dico sempre e sono anche pesante lo so darò fastidio perché dico sempre magari la stessa cosa diamo la parola agli arbitri facciamo facciamo parlare magari Calvarese no perché ha lo stress della partita la tensione ma il quarto uomo che lì bello seduto tranquillo in al caldo nella sua stanzetta a fine partita facciamo una conferenza stampa in cui gli si chiede e lui darà spiegazioni senza poi aditarlo di non sei capace no sapere perché sapere perché il quarto uomo il VARista non ha detto non ha chiamato Calvarese al VAR perché lì è lui che deve decidere non è Calvarese che dice ascolta cosa faccio lo vengo a vedere probabilmente Calvarese io lo vengo a vedere e lui gli dirà no no vai tranquillo è calcio di rigore e Calvarese si fida perché per forza come fai a non fidarti per forza ti fidi io queste cose qua divento matto e bisogna combattere su questa cosa qua bisogna in un mondo dove tutti parlano dove tutti scrivono dove tutti soci alla manetta scrivono anche una marea di cazzate perché io l'ho letto anche una marea di cazzate su questi episodi su Ibra perché non facciamo parlare anche gli arbitri dai su Rizzoli con la gente lì non siete stupidi lo sapete anche voi fate parlare agli arbitri almeno ci sarebbero molte meno polemiche ci sarebbero molto meno polemiche ciao e grazie